L'unità dei cristiani è opera dello Spirito Santo e dobbiamo pregare insieme. Tutti noi abbiamo ricevuto lo stesso Patessimo, tutti noi andiamo sulla strada di Gesù, vogliamo Gesù. Tutti noi abbiamo fatto queste divisioni nella storia, per tanti motivi, ma non buoni. Ma adesso, che è proprio il tempo che lo Spirito ci fa pensare che queste divisioni non vanno, che queste divisioni sono una controtestimonianza, dobbiamo fare del tutto. Per andare insieme. L'ecumenismo spirituale, l'ecumenismo della preghiera, l'ecumenismo del lavoro, della carità insieme, l'ecumenismo della lettura della Bibbia insieme. Ma andare insieme verso l'unità. Unità, prima di tutto nella preghiera. Il lavoro per l'unità dei cristiani incomincia con la preghiera. Pregare insieme. 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 Grazie a tutti.